non so se troverai anche questo video ora che c'è la farfalla bianca che viene sempre quando guardi video sotto c'è scritto da qualche parte guarda tutti i video di smart se trovi questo video puoi vedere anche gli altri perché ti farò dei video li metto dentro nel canale youtube dove ci sono le tue partite di calcio così vedi un po lugano come c'è un bel po che non ci viene continua a vedere la volpe nel bosco qui sotto questi sono i peperoncini non so se si vedono perché c'è un po di sole andare a zoomare indietro ne ho raccolti tantissimi sono molto buoni mi sa che sono gli stessi che usano il negozietto al phoenix perché loro li tritano e non si capisce bene che forma hanno secondo me sono gli stessi che anche questi sono molto forti buoni, saporiti ecco che arriva ancora un po di vento non so se lo senti adesso giro un po il telefono come piace a te e poi lo rigiro la pianta dei ghiri devi guardare anche i commenti sotto ti ho scritto un messaggio in ogni video del calcio con un piccolo commento e adesso ti saluto al prossimo video mua ciao ciao ciao